salve amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video dell'unboxing quello che vi ho promesso del computer nuovo che mi è arrivato se sentirete dei rumori fastidiosi perché la videocamera la sposo col computer perché questo se faccio così sto sollevando il computer quindi vi faccio vedere prima il monitor che è la cosa più importante io devo guardare di là invece guardo il mio stesso video per vedere se sto registrando bene allora per prima cosa giriamo il computer ok so che sentirete un casino della madonna quindi non ve la prendete con me perché è un casino farvi vedere tutto vedete io mi sposto così almeno mi vedete meglio allora lo solleviamo così ecco qua questo è il monitor da 24 pollici è grande perché è grande quindi si vede anche che è grande cioè forse dal video non capirete molto lo sfondo è lo stesso adesso scusate sono su skype oh mio dio il computer portatile allora poi sicuramente questa videocamera la metto qui quindi bloccherò il video la metterò qua per farvi vedere diciamo l'interno diciamo l'estetica mi si può dire o se no anche direttamente da qua però non so se vedrete bene qua ohia questo computer cade adesso vedete qua c'è il desktop uguale allo stesso desktop che ho nel portatile perché lo sfondo mi piace a me questo quindi non mi vedete bene ok adesso vi faccio vedere il computer che sarebbe qua giù che però devo fare in modo tale che riuscite a vederlo come faccio spostiamo la sedia poi l'estetica ve la faccio vedere cioè vi dico l'interno cosa c'è non vi faccio vedere proprio tutto 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 allora vediamo se è così riesco a farvelo vedere ok allora questo è il computer so che non si può vedere molto eccolo qua qui c'è questo qua il multi attacco per gli usb già ce ne sono sei ma più questi ne faccio molti di più e qua giù c'è il c'è la come si chiama la raffredda quello che raffredda il computer in pratica le ventole si possono chiamare è un intercori 7 gli ho voluto mettere l'intercori 7 questo è l'applici d non so se riuscite a vederlo eccolo qua so che la qualità sentirete dei rumori fastidiosi insomma è la videocamera ragazzi è questa qui perché spostando il computer fa dei rumori assurdi ma non posso farci niente cioè non so come farvela vedere meglio si può dire allora questo è il computer non si raffredda non si riscalda quasi mai perché è un super pc io l'ho acquistato a 700 euro all'incirca e meno male mi sono preso un fisso questa volta così almeno il fisso vedete questi sono i cosi che lo coprono per evitare magari che gli entri aria boh qualcosa o polvere ma non penso perché tanto la pulirò sempre questa camera quindi questo è il coso e questo è il monito vedete magari da questa distanza riuscite a vederlo il monito da 24 pollici qui metterò la userò questa adesso per registrare cioè per registrare me con la videocamera c'è il lupo intanto vedete ok il lupetto io non mi piace i lupi quindi c'è i lupi ecco questo è il gioiello che userò però che magari forse non fa video in hd ma anche se è una gopro hero una gopro hero 2 questa faccio vedere vedete vedete hero 2 con questa vedete c'è il piedistallo la metto qui e mentre io sto registrando con questa a me guardo il video quindi in pratica questa qui è molto utile poi vabbè magari trovo dei ganci da mettere qua o lì a destra per magari per tenerla così così mettere il registro lui sta fermo e non non fa casino e vabbè vi vorrei far vedere il tanto il lupo se lupo dietro ok vi vorrei far vedere mi sono messo le for the 2 giochi classici così a me lo posso giocare qui alle for the 2 infatti vedete si vede anche qua credo le for the 2 e questo però adesso non credo che riuscirete a vederlo bene dovrei farvi dovrei aprire action direttamente faccio una cosa io blocco qui il video vi faccio direttamente il video su action e vi faccio vedere il computer che cosa ha all'incirca quindi ci vediamo tra un po' su action per così faccio vedere il desktop del computer vi faccio vedere quanti gigabyte ha quanta ram quanto ha tutto perché vabbè io so che è potente perché i pezzi mi li ha consigliati il mio cugino il mio cugino se ne intende di computer lui sa che potenza volevo e infatti c'ho di ram c'ho 8 giga di intercori 7 con scheda grafica che legge tutti i giochi del 2013 cioè vabbè legge legge non è che c'è però la maggior parte li legge quindi l'importante è che io questo computer non si raffreddi non si riscaldi e questo è praticamente impossibile perché se vi faccio vedere la questo questo programma qua che c'ho nel non me lo apre merda aspetta forse è qua no non c'è in pratica il computer c'ha un programma che se tu lo apri ti dice quanto quanto si raffredde se si riscalda o se sta lavorando troppo ma non penso sto morendo ok da qua non ve lo posso far vedere ma vi posso dire io direttamente guardando anche se non vedete niente cosa c'ha come come statistiche vi posso metterlo così che magari no così non vedete a proposito vedete delle casse lì su ecco quello è l'impianto stereo quello che c'è qua a destra eccolo qua questo qui diciamo che lo uso per mettere l'audio perché questo monitor non fa da audio cioè se voglio fare audio devo mettermi le cuffie e le casse cioè infatti metto queste vedete c'ho questo cavetto cavettino qua vedete che c'ho qua lo collego al computer e lui tramite il monitor mi fa l'audio le due casse là quindi credo che sia molto più divertente perché mi fa il slender ma anche i giochi là fanno cagace e mi fanno hanno paura perché con quelle casse lì si sente potentissimo adesso non può aumentare il volume perché non è acceso se lo vuoi fare così vedete ecco cos'è che si aprono a caso vedete c'ha tutto ok vedete si sente l'umore della cassetta perché la cassetta fa tramite l'audio del computer in pratica se io andassi adesso su un su un video uno qualsiasi su YouTube so che non vedrete niente andando su YouTube no sono andando su YouTube Italia sono un idiota vedete guardate la pagina quanto è gigante cioè non cioè è una figata cioè i giochi li vedo li vedo grandissimi cioè per una cosa del genere 24 pulizie è grande so che magari non riuscirete a vederlo bene ehm la tastiera l'ho messa di là YouTube l'ho messa in fondo perché se no disturbava appunto ehm sono un genio allora ehm proviamo il video di canale di Dima con Dark Soul metto il volume alto sentite tap ma perché si stoppa ah perché ha messo tap 2 ma io non voglio tap 2 scusate figura di merda ok si chiama figura di merda ho dovuto gliela cassetta la cassetta è inutile diciamo perché se no no sentite vedete quello che ci che fa rinascere gli scheletri quindi stavamo sciarli e adesso vedete si sente bene infatti l'audio si sente là sopra le due casse che ci sono qua su quindi se metto il volume alto si sentirà potente allora vi dico merda avete sentito anche il rumore Skype che bellissimo zetta ah spegniamo l'impianto stereo se no allora mettiamo se lo mettiamo così ok così dovreste essere a posto ah ok allora questa è sempre la GoPro Igo 2 che farò i miei video futuri allora computer proprietà c'ha un terabyte di memoria interna quindi uno ci sono 36 giga dentro di programmi poi a parte un terabyte se io vado qua categoria icone piccole no icone grandi perché non vedo un cazzo eh ah no tra gli altri ho detto una cazzata allora chiudi tasto destro proprietà eccolo qua allora il sistema operativo è 32 bit perché io l'ho detto volevo il 64 bit ma l'ho detto però che non cambia niente in pratica perché per alcune cose si cambia però non per quello che sembra a me non credo cioè ci sono programmi che posso mettere anche 32 bit basta che che ne so Sony Vegas se al posto del 17 metto il 32 cioè il 16 o il 15 di Sony Vegas se sono mi coloro dove siamo arrivati a Sony Vegas no 12 siamo arrivati a Sony Vegas che cazzo 15 o 17 siamo andati al 12 Sony Vegas quindi metterò magari l'11 o il 10 se c'è il 32 bit tanto non cambia niente alla fine per montare i video qui ti monterò qua i video e poi soprattutto ho scoperto che da questa videocamera se faccio video normali cioè nel senso che faccio video eh è buio è buio è buio ok ehm volevo mettere questa per illuminare ma non ci arrivo si ci arrivo aspettate tolgo c'è un sacco di prese scusate tolgo la telecamera sentirete l'umore ma guardate lì quello è il router per la connessione a internet infatti c'è il cavo LAN perché prima era un potevo collegarlo di là direttamente senza bisogno di fare tanto casino è wireless e il computer infatti si connetta a wireless se no c'è questo fisso poi ci sono i due cavi del computer processore e monitor che sono uguali è il cavo identico e poi la radio l'impianto stereo che è quello verde che c'è qua vicino al router quindi all'incirca tolgo quello e metto la luce che c'è qua che c'è qua aspetta il computer sono un caglione ok va bene e va bene ho fatto una figura del merda ok meno male che ancora non ho messo la password così si fa subito e la finiamo allora lucetta faccio merda allora figura del cazzo internet non me ne faccio nulla adesso quindi posso collegare questo tanto ma non si può collegare come lo collego non si collega si il coso sei spento e va bene allora tanto per cominciare tastiera della logitech così c'è logitech date logitech questa è la videocamera della logitech mouse della logitech si capisce mi è stato un caglione ok scusa avete sentito un rumore della madonna scusate ok ammette che si riaccende il computer perché non non ha mai presa lunga per scusate guardatemi così con la luce bassa allora così mi vedete bene allora ammette che si accende il computer vi dico cosa c'ha ecco si un coglione vabbè non c'è internet ancora eccolo questo qui è quel programma che vi ho detto dice quanta cpu faccio memoria clock eccetera eccetera dice dice un po' tutto allora tasto destro proprietà allora gestisci i dispositivi ve li elenco così non perdiamo tempo ah vabbè il computer è un pc basato su x86 acp quindi comunque 86 x86 controlli audio nvidia ha chi definisce un audio realtech ha chi definisce un audio quindi c'ho nvidia e anche realtech poi il vabbè usb lasciamo perdere dispositivi di sistema c'è un po' di roba però non è quello importante cioè voi volete sapere la scheda video e quelle cose lì processori sono 1 2 3 4 5 6 7 8 processori da intercore i7 da cpu 3,4 gigahertz poi scheda video nvidia geforce gtx 660 schermo monitor generico plug plug and play poi devo andare qua no ho sbagliato poi c'ha come ho già detto la ram 8 giga intercore i7 sistema operativo 32g 32 bit non 32g cazza bullini poi la scheda la scheda video e quelle cose lì ci sono in un foglio cioè le metterò in descrizione nel mio video cioè in questo video metterò in descrizione tutto quello che c'è nel computer così almeno siete informati su quello che ho comprato cioè allora quello che vi metterò in descrizione saranno le cose che ci sono dentro il computer tranne che invece di intercore i5 c'è i7 come vi ho già detto adesso e i giga sono 8 giga di ram e soprattutto credo che sia 32 bit al posto di 64 bit quindi alcune cose non sono o le modifico se ho tempo le modifico altrimenti ve lo lascio e poi vi scriverò sotto che c'è intercore i7 al posto dell'intercore i5 quindi altro da dirvi che questo monitor spacca di brutto guardate cioè io con un tocco qui epico capito cioè non c'è bisogno cioè io lo tocco con un dito cioè non lo tocco nemmeno lo sfioro guardate no vabbè adesso non scusate ecco ecco questo lo devo colpire devo dargli un colpettino però credo che se lo sfioro si spegne beh sì infatti è un super computer posso vedere il mio portatile augurate adesso vi faccio vedere il portatile che c'ho vediamo se qui esco se non si è impallato qui ecco qua vedete il mio ovaglio vedete qua che sto registrando adesso l'ho messo qua così proprio per farvi vedere vedete è un intercore i3 ATV Radeon Premium Graphics questo era Windows 7 Premium e in pratica userò questo per fare il video adesso in caso ho l'impianto stereo su che mi fa audio questo qui che è gigante 24 pollici è un po' grandino poi il computer che non si riscalderà mai anche Minecraft in caso lo girerò così farò le serie di Amnesia qua tutti i video che farò li farò qua perché devo installare alcuni per giochi qui adesso c'ho soltanto Amnesia Left 4 Dead 2 preso da Steam perché proprio l'ho comprato il gioco mi è costato 13 euro 5 euro non mi ricordo quanto mi è costato faccio anche partire se volete l'ho finito di scaricare ieri non c'è internet Davide ragiona ragazzo allora attacchiamolo di nuovo se non si collega a Steam non ha senso riprova connetti ah io connetto se non si rompermi le balle cos'è ogni volta che stacco questo coso devo mettere la password non v dai connetti ah si se non si riavvia ecco il cazzo perché si con si sta ancora avviando il programma let adesso c'è l'internet adesso è una rottura è una rottura di balle quando mi devo mettere la internet qua perché c'è il cavolano io lo detesto vabbè vabbè ci avete il computer raga monitor io lo sapere vabbè vediamo queste cose questo chiudetelo che non me ne faccio nulla allora steam è connesso ma mi dice che c'ha un errore skype è acceso skype è acceso skype è acceso skype è attivo ah infatti adesso è attivo si è davvero un errore va attiviamolo subito guardate poi vabbè magari modifico la schermata la metterò più grande tutto allo sfondo guardate si vede mi chagava ma perché sempre questo si apre benvenuti su steam cloud ma chi ne si vede è un guacchero ok perché non si sente l'audio ma è l'incoglionita il mio questo se è poi se non ho messo il volume audio ah ecco l'audio è figo sentite cioè fare una partita con questo si cazzi sui si cazzi sui ok aumenta da solo il volume cose a caso vabbè mi sto trattenendo troppo farò una serie sull'effort e2 ho avuto un'idea di fare una serie che è d'accordo soprattutto chi vuole partecipare raga perché io video con tutti lo farei cioè non è che ho problemi allora parlo lì direttamente alla videocamera così vedete che vi sto parlando perché io guardo sempre lì perché guardo se il video sta continuando a registrare se no mi intripo allora c'è una serie che voglio fare in pratica e per aiutare in teoria in pratica voglio fare un video su slenderman o un gioco che volete voi però che si conteneva a serie nel senso che io sarebbe stato bello slenderman perché allora facevamo io versus una persona che voleva partecipare chi trovava più lettere vinceva quindi in pratica così cioè batterebbe un community in poche parole sarebbe quindi il video si fa in due poi alla fine io mi dà anche il tipo il video che ha fatto lui registrando io lo carico lo monto su questo computer e faccio meglio perché adesso ho un computer potente quindi faccio veloce a fare i video a montarli in pratica metto due inquadrature sia la mia sia del mio amico e vi faccio vedere quante pagine prende lui e quante ne prendo io poi lo ingrandisco faccio in modo tale che leggete quante pagine ha preso lui e quante ne ho preso io e ci saranno gli audi l'audio mio e l'audio suo con tutto con tutto pronto già perfetto diciamo quindi quindi raga per questo video è tutto iscrivetevi al canale di 85ago Fox Dr.Coblitz Spiderman5717 Freddy Horror che adesso ha cambiato canale adesso non mi ricordo più come si chiama il suo canale perché devo andarlo a cercare qua però appena vedo un video horror horror è suo quindi ecco Freddy Gamer no Freddy Game Horror TV è il suo nuovo canale prima si chiama Freddy Horror non mi ricordo comunque anche nel tuo canale poi come ho già detto Spartan Reverse Spartan Reverse ve l'avevo già detto molte volte che ho un canale bellissimo cioè raga gli piace Halo mi ha fatto una intro quella che vedete sempre nei miei video scusate per questi 24 minuti 30 minuti che dura il video ma le ho fatti per fare tutta sta roba in pratica fa video su Halo cosa è vale cioè fa Halo precisamente poi fa video su altre cose fa le intro gioca adesso sta giocando a fare il cali 3 lui adesso mi ha detto che doveva farmi nuova intro più horror però oggi si è rotta l'hard disk quindi ha perso tutto la memoria interna non mi ricordo che si è rotta quindi adesso deve riparare tutto deve rifare tutto da capo quindi anche la mia intro ma io spero che non la rifai perché ti sei fatto un culo così è meglio non farla più preferisco che non fai niente cioè non voglio cioè non te l'ho chiesto di farmi la intro però non voglio manco obbligarti a farla di nuovo e poi Ita Giochi Channel che è un mio amico quello che abbiamo fatto dei video insieme con Slendytubbies andate a vedere sul suo canale Ita Giochi Channel vi li metto sempre in descrizione quindi lo trovate subito in pratica iscrivetevi al suo canale perché merita fa video su gioco sugli zombie sniper elite nazi zombie army qualcosa del genere se non mi proprio si dice in inglese non me ne intendo quindi ok basta fare il cogliere ok adesso sono eccitato perché non per modo di dire non posso attemare adesso mi piace sto monizio ma quanto è grande ok immaginatevi vedere un film porno in questo è bellissimo cioè che basta fare il maiale insomma è morto tipo con la bava ok quindi raga per questo video è tutto un saluto da Bayon Community mi metto in posizione da Bayon Community è il computer super figo ok no è il processore che vi saluta lo faccio vedere ecco qua guardate che è bello ok quindi ciao a tutti ok ciao a tutti